Cari grandi, noi siamo i bambini che vivono a Corbiare, il palazzo più lungo del mondo, di cui tutti parlano, ma ne parlano in un modo che non ci piace. Non possiamo camminare da soli, perché abbiamo paura. È tutto sporco, bruciano le macchine, minacciano le persone, scarabocchiano gli ascensori con tante parolacce. Noi chiediamo solo di poter giocare, avere più pulizia e più rispetto. Voi grandi lo chiamate legalità e sicurezza. Abbiamo scritto questa letterina per voi che affrontate i grandi problemi del mondo, per farvi sapere che per noi questo è un grande problema. Saluti da Corbiare. Grazie.